Sullo stesso argomento spostiamoci ora a Roma dove il nostro inviato Davide Cordua ha intervistato il senatore Stefano Candiani. Sentiamo. Senatore Candiani, attraverso una mozione la Lega Nord che cosa chiede all'Aula del Senato per quanto riguarda le slot machine? Di riprendere un tema che era già stato affrontato dal gruppo della Lega sia alla Camera che al Senato nella precedente legislatura, ovvero la gravità della presenza di questi strumenti, quindi del gioco d'azzardo nei paesi. Esistono delle leggi, bisogna rivederle se è il caso, ma certamente non si può più consentire che ci sia lo Stato che mette le mani nelle tasche soprattutto della povera gente o di chi cerca nella fortuna del gioco un'alternativa alle disgrazie economiche della vita. Stiamo andando di fronte tra l'altro a una disgregazione sociale perché le persone che perdono il proprio patrimonio e perdono tantissimi soldi, anche semplicemente avvicinandosi a una macchinetta in un bar, sono ormai tantissime. Lo Stato incassa una marea di soldi, quasi 8 miliardi di euro da queste macchinette, ben più di quello che incassava in passato dalle case da gioco tradizionali. Ciò dice che in una situazione come questa c'è anche un aspetto morale. È giusto ed etico che lo Stato, domando, mette nelle tasche della gente la mano per poter prendere questi soldi lasciandoli poi sull'astrico? Noi riteniamo di no e su questo andremo a dibatterne in Senato. Grazie. Grazie.